Oggi vi porto con me a surfare, andiamo! L'obiettivo di oggi è quello di fare due surf session, una ora che sono le sette e mezza e una oggi pomeriggio, vediamo se riusciremo, ho due minuti e quindi dovrei farcela. Mamma mia, sono super ordinate! Grazie a tutti! Arriva, ma non arriva, arriva, è la carina, è la carina, è la carina! Mi raccomando, Presidente, io all'inizio non le rispettavo, ma invece se fa male, è importante rispettarle. No! No! Era bellissimo! Rossello èthisко! Vai che ci metto insieme! Il tutto boffi. Grazie a tutti! Vai 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 E qui fa tipo una doppia onda musica Ragazzi stiamo facendo la seconda session Abbiamo anche Fra Il fotografo Siamo distrutti E' pieno di gente Tu mi stai fotografando E' distrutto L'aria è pesante Andiamo Salutiamo il buon Fra Ci vediamo un po' Io Ora con questa siano Ciao L'idea era quella di cambiarsi Mettere un'altra muta Solo che Il mare è incalando Quindi ho cambiato subito tavola E vado ora Oh 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 Dai Fortunatamente è una bellissima giornata Non fa freddo Sei in compagnia No no basta No Dai 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io sono entrato alle 7.00. Io in su. Per un'ultima onda, deve essere bella. Mi sono messo in pole position. Arriva. Arriva. Dopo 4 ore stavo morendo. Ragazzi, sono appena uscito dall'acqua. Sono state 4 ore e mezza molto intense. Spero che questo tipo di video vi può interessare, piacere. Alle ore 7 ho scritto a Sara, amo entro in acqua. Lei mi ha inviato una foto di Pupino, il suo gatto, il nostro gatto, anche detto figlio. E alle 10 gli ho scritto che ero vivo. E in quel momento stavo cambiando tavola. Quindi ho cambiato tavola. E alle 12 gli ho riscritto. Ora io mi mangio una banana. E niente, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettetevi un piace, commentate. E ci vediamo al prossimo video. Grazie.